Questa è una tappa per presentare Explora tra le diverse province, come è già stato fatto. Il motto è promuovere il territorio e il turismo per Expo 2015. Explora è uno strumento importante voluto dalla Camera di Commercio, dalla Regione, dalla società Expo per valorizzare i territori. Ci stiamo avvicinando a questo grande appuntamento con tutte le misure messe sul tavolo e oggi presentiamo questa iniziativa con l'intento di avere una richieduta non solo a Milano ma su tutti i territori della Lombardia. Ieri segreteria politica della Lega, cosa si è deciso? Abbiamo deciso l'organizzazione del congresso che si terrà il 15 domenica prossima per eleggere il nuovo segretario federale Matteo Salvini. Era presente ieri, c'era anche Bossi, c'erano tutti. Mi pare un buon clima. Quello che si è sottolineato è l'importanza che dal congresso esca la Lega Unita, riunita, più forte di prima. Questa è la cosa più importante. Dato per scontata l'elezione di Matteo Salvini, che mi sembra un'ottima decisione, un'ottima scelta fatta dai militanti. Quello che io auspicavo che si è esattamente realizzato. Non è perciò attivarsi un po' troppo conclusivo? Chi? Salvini? No, Salvini è l'uomo giusto. È un uomo di energia, idee chiare, una lunga militanza nella Lega, sa che cos'è l'Europa. E questa sua posizione eurocritica è molto giusta e azzeccata. E quindi sono assolutamente contento che sia stata lui la scelta, perché le idee chiare, le idee giuste.